Quasi, scusi la fede, 6,3 milioni, presenteremo in modo estremamente puntuale, immobile per immobile, tempi per ognuno dei progetti, noi passeremo dal pagamento di, ripeto per chi è appena arrivato, 6,2 milioni di euro, è inutile che vi dica, nella penubia di risorse pubbliche, questo significa che noi abbiamo recuperato l'ascorto pubblico per la raccolta differenziata, per tutto quello che significa investimento qualità della vita della città. ...che oltre al dato economico-finanziario, e se mi considero anche di moralità, ci sono fitti per i quali il Comune di Catania paga, che saranno pure naturalmente centri di mercato, 800 collaboratori, perché questa azione tende anche a recuperare i mobili comunali che, diciamo, vanno avanti e succedono per le condizioni di integrato che sono sotto gli comunali comunali, e quindi pensate alle scuole...